Ciao a tutti, come capire se lui ti ama davvero? Allora, in questo video voglio insegnarti quali sono le cose che devi guardare, di cui devi prendere atto per capire se un uomo ti ama davvero. E' molto importante questo perché eviti di prendere luciole per lanterne e poi sai eventualmente che comportamenti mettere in atto per cambiare le cose, che è fondamentale. Prima però iscriviti al canale attivando la campanella così non perderai le notifiche del video e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco. Inoltre ti ricordo che su questo canale è attivo il servizio abbonamenti, ci sono tre livelli di abbonamento, abbonamento base con lezioni mirate, abbonamento top con lezioni mirate, videoregistrazioni e seminari dal vivo e abbonamento master consulting con in più una consulenza telefonica per te insomma. Quindi scegli il tipo di abbonamento, abbonare se è facile, basta andare nella home page, tastino abbonati e dopodiché selezionare l'abbonamento che preferisci. Allora, e veniamo al tema, diciamo, come capire se lui ti ama davvero, se lui è davvero coinvolto con te, se lui davvero vuole una relazione stabile con te. Ed eventualmente, se capisci che non è così, sai come regolarti, sai che non devi illuderti. È importante per riuscire a capire bene questo avere una mente aperta. Una mente aperta vuol dire non credere che il tuo amore lo spingerà ad essere innamorato o innamorarsi di te. Il tuo amore è un fatto tuo, il detto del sommo poeta amorca nulla amata ma perdona non funziona, non basta per così dire amare una persona affinché questo ci riami. Non funziona in questo modo, quindi devi tenere presente questi fatti, devi tenere presente queste cose. Quindi amorca nulla amata ma perdona non funziona. E detto questo, quali sono queste cinque cose? Allora, la prima è che ha un costante interesse per te, quindi è la stabilità e la coerenza che ha nei tuoi confronti. Le persone che appaiono, scompaiono, si manifestano, si rimanifestano, oggi ci sono, domani non ci sono. Sono persone che, diciamo, in questo momento non sono coinvolte con te, non hanno un interesse reale nei tuoi confronti. Poi, per carità, questo non vuol dire che domani non possano averlo, ma in questo momento preciso non ce l'hanno. Quindi la costanza e la coerenza di comportamento è molto importante. Come primo punto da tenere in considerazione. Secondo punto è la crescita della relazione. Cioè una persona che è davvero innamorata di te intensifica la sua relazione. Cioè col passare del tempo noti che la relazione ha un'evoluzione. Se la relazione resta sempre ferma a se stessa, beh, vuol dire che non c'è nessuna evoluzione, non c'è nessun cambiamento. E quindi quando non c'è evoluzione, quando non c'è cambiamento, le cose restano tutte uguali a se stesse fondamentalmente. Questo devi tenerlo presente, un fattore molto molto importante. L'intensificarsi della relazione è direi uno dei fattori principali. Altra cosa è quella delle cose che dice. Allora, sei veramente coinvolto con te, parla del vostro futuro. Fa programmi per il futuro. È come dire, ti include nel suo futuro. Non sei un qualcosa di esterno. E ovviamente anche in questo caso le, diciamo, anche in questo caso alle parole devono seguire i fatti. Però ha un progetto, ha una visione. Una visione che comprende voi due come coppia. Talvolta spesso anche vedervi addirittura anziani fare, che ne so, una camminata abbracciati. Per dire, sono delle parole che vengono fuori spontaneamente, che comprendono una visione di vita di coppia, di coppia con te. Poi c'è un altro fattore, il quarto fattore, che è un fattore più personale, diciamo. È una sorta di sesto senso. Quando stai bene con una persona, provi, diciamo, quello che viene definito un sesto senso. Provi una sorta di attrazione, diciamo, verso questa persona. Un sesto senso, una vocina interiore che ti dice quello giusto. Non bisogna mai non ascoltare, perché questa vocina c'è sempre, anche quando ti dice quello sbagliato. E però dobbiamo prenderli in considerazione sempre, sia che ti dice quello giusto, sia che ti dice quello sbagliato. Perché dentro di noi c'è già la risoluzione a tutte le risposte. Quindi questa è un'altra cosa che devi tenere importante da prendere in considerazione. E poi l'ultima cosa è sempre osservare i suoi comportamenti con altre persone. Quando, diciamo, interagisci con te, non ha paura di farti entrare nella sua vita. Quindi presentarti alle persone care della sua vita, agli amici, i parenti, i genitori, insomma. E parla con te come della sua compagna. Non è che ti presenti agli amici, questa è una mia amica. Ecco, queste sono le cose che devi tenere presenti in considerazione. Sono le uniche cose che ti fanno capire che ti ama davvero e che vuole davvero avere una relazione stabile con te. Per questo video è tutto. Iscriviti al canale attivando la campanella così non ti perdi le notifiche. Seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco. In più, su questo canale è possibile abbonarsi. Se ti abboni avrai tre livelli di abbonamento. Tastina abbonati, abbonamento base con lezioni mirate, abbonamento top con lezioni mirate, videoregistrazione e seminario del vivo, abbonamento master consulting con in più una consulenza telefonica. In più, ti ricordo che ti lascio il link del mio canale Crescita Personale qua sotto con Massimo Terramasco. Dagli un'occhiata se questo canale nuovo ti piace, iscriviti. Ciao a tutti!